Grazie Presidente, ringrazio la Senatrice Fattori per aver posto all'attenzione un tema di particolare importanza e attualità. Proprio in queste ore c'è una discussione in corso nel Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato per la Valutazione del Rischio in Farmacovigilanza, Prac dell'EMA, ha rivelato un primo segnale relativo ad eventi tromboembolici a seguito di vaccinazione con AstraZeneca nel mese di marzo 2021, concludendo comunque che i benefici del vaccino restassero complessivamente superiori ai rischi e che gli eventi trombotici venosi in sedi inusuali associati a livelli bassi di piastrine dovessero essere elencati come effetti indesiderati molto ravi. L'EMA ha inoltre raccomandato che l'uso di AstraZeneca durante le campagne di vaccinazione a livello nazionale tenesse conto della situazione pandemica e della disponibilità dei vaccini nelle singole nazioni. Ciò premesso, il 7 aprile del 2021, il Ministero della Salute, mediante una circolare oggi vigente, facendo proprio il parere espresso dalla CTS dell'AIFA, ha raccomandato un uso preferenziale di questo vaccino nelle persone di età superiori a 60 anni, sulla base delle attuali evidenze tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell'elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate. Successivamente, a fine aprile, su richiesta della Commissione europea, l'EMA ha concluso un'ulteriore valutazione, analizzando i benefici e i rischi del vaccino nelle diverse fasce di età e in diversi scenari epidemiologici, alla luce dei tassi di infezione mensili. L'esito ha dimostrato che i benefici della vaccinazione aumentano con l'aumento dell'età e del livello di circolazione del virus. Tali dati sono stati ulteriormente valutati dall'AIFA ed è stato ribadito che il profilo beneficio-rischio risulta progressivamente più favorevole all'aumento dell'età. L'effetto è tanto più marcato in una condizione di diminuita incidenza dell'infezione in quanto vengono a ridursi i rischi di malattia grave Covid-19. Voglio ricordare che l'Italia è passata nelle ultime settimane da un livello di circolazione alto ad uno medio ed ora è ad uno basso. Queste valutazioni saranno sicuramente considerate nel prossimo parere del CTS. Mi permetta però di ricordare sempre che i vaccini sono la vera arma di cui disponiamo per chiudere questa stagione così difficile e che tutti quelli approvati da EMA-AIFA sono sicuri ed efficaci. La campagna di vaccinazione nel nostro Paese ha superato le 40 milioni di dosi somministrate è un risultato molto incoraggiante che sta producendo un esito positivo sia in termini di riduzione dei contagi che in termini di riduzione della mortalità e della pressione sui nostri servizi sanitari.